Siamo a Lido di Venezia, mi permetta di dire nonostante tutto ancora una spiaggia magnifica, vedrete nelle immagini le capanne, vedrete questi aquiloni. Siamo con Claudio Rappelli, Emilia Romagnolo? Sì, Romagnolo diciamo, Cesena, Cervia, sono organizzatori di un festival internazionale che si svolge a Cervia da 34 anni. Festival internazionale non del canto ma degli aquiloni? Scusate, dell'aquilone, sì, festival dell'aquilone. Come può nascere la passione? Cos'è un festival dell'aquilone? La passione per quanto mi riguarda è nata tanti anni fa, alla fine degli anni 70, durante un viaggio negli Stati Uniti, una domenica mattina attraversavo Central Park e ho visto volare un aggeggio che era molto, poi ho imparato che era un aquilone, ma era molto diverso da quello che per me era un aquilone a quell'epoca, cioè la losanga che tutti facevamo da bambino. E ho parlato per un attimo, ho cercato di capire di cosa si trattasse. Nel caso, in quel caso era la ricostruzione di un aquilone storico dei primi del Novecento, una cosa voluminosa, sembrava un letto matrimoniale che volava su queste. E fu molto interessante scambiare qualche parola con i due costruttori che nello specifico avevano fatto questo aquilone per il cinema, era una ricostruzione storica che sarebbe servita poi per un film. E queste persone erano particolarmente interessanti, divertenti e così me ne sono andato da questa situazione pensando che ovunque nel mondo, ovunque arriva un soffio di vento c'è qualcuno che costruisce un aquilone. Io avrei pensato all'Oriente. E infatti in Oriente naturalmente si dice, è quasi provato, che gli aquiloni siano nati in Cina. Tant'è vero che uno dei motivi per cui siamo qui a Venezia oggi è anche per preparare le basi per l'Expo 2015 dove io sono stato coinvolto per rendere omaggio alla Cina che sarà ospite d'onore di Venezia. Venezia è stata a sua volta ospite di Shanghai, all'Expo di Shanghai. E quindi di quale modo migliore che non attraverso il vento, gli aquiloni, un omaggio alla Cina che stiamo preparando, stiamo progettando, la Cina che ha dato i Natali appunto all'aquilone. Lei è qui a Lido di Venezia su invito. Sì, io sono stato invitato dal Presidente del Consorzio Albergatori di Lido e Pellestrina, il signor Giorgio Galasso. È già nel terzo anno che facciamo un piccolo evento, creiamo un piccolo evento. Per quanto mi riguarda io farei cose molto più grandi, sono avesso diciamo, faccio la ricerca a 200 ospiti, qui ne abbiamo 20 come artisti diciamo. Però è giusto cominciare piano, fare le cose che cominciano a piccoli passi, forse poi hanno una durata maggiore, riescono meglio che non le cose. Si entra nel tessuto della città, della spiaggia. Lei ha detto degli artisti. Qual è lo spazio invece della fantasia dei bimbi? Eh, i bimbi, se le racconto quando tanti anni fa io andavo dal sindaco di Cervia proprio per proporre un festival di aquiloni. Questi mi concedeva gli appuntamenti perché era un giovane intellettuale della città. Io sono un artista, sono un pittore e non poteva negarmeli. Però lui mi ascoltava per dieci minuti, all'epoca non c'erano, non si vedevano, erano gli anni settanta. Però lui pensava agli aquiloni come gioco dei bambini e questo è il grande errore. Gli aquiloni, sì piacciono anche i bambini, ma oggi sono soprattutto un veicolo, un gioco, uno sport, un oggetto che viene preso in considerazione dagli adulti. Una creatura. Una creatura, una creazione. Tant'è vero che il sindaco dopo dieci minuti che io cercavo di spiegargli questa cosa, lui mi diceva, ok Claudio ho capito, però adesso vai via perché dobbiamo lavorare. Perché lui credeva che io parlassi di chissà, di cose. In realtà il festival di Cervia oggi è diventato un evento, fra l'altro si svolge in aprile, a cavallo fra aprile e maggio, dieci giorni, un evento straordinario che chiama a Cervia centinaia di migliaia di persone in un'epoca in cui ci sarebbe il deserto, sarebbe il deserto totale. E tutti si stanno ricredendo proprio su questa cosa. L'aquilone non è, o meglio, non è che non sia un gioco da bambino. Non è solo un gioco da bambino, è molto di più. È un oggetto, è qualche cosa che viene preso in considerazione da moltissimi artisti plastici nel mondo. È un gioco per far sognare i bimbi, ma deve essere un artista a crearlo. Bravo. E soprattutto deve essere una persona che non ha perso il suo cuore di bambino. Ecco, se lo vogliamo dire così, adulti che non hanno perso il loro essere bambini. Questo è molto importante. Noi speriamo che rimanga il festival a Cervia, ma ci sia uno spaccato anche qui al Lido di Venezia. Sì, io spero che Lido, anzi questa bellissima isola nella corrente, io la chiamo, mi ricorda, fra l'altro siamo di fronte al The Band, Hemingway ci è passato, credo, più di una volta. Ma è un'isola in una corrente di creatività, in una corrente ideale, secondo me, proprio per gli artisti del vento. Allora, grazie a un artista, grazie al colore, grazie alla fantasia. Grazie a Lido di Venezia.